la mano che ha detto il dottore ha detto che se non guarisci muori ma no no nel senso che allora non ci hanno capito molto quindi dovranno farti degli accertamenti non so hanno visto una macchia una macchia si una macchia ma non può essere niente può essere una polmonite una pleurite una infezione ma che sono un medico io non lo so comunque in linea di massima dovresti sopravvivere però ti devi curare guarirai certo tu dormi in palestra chi ha mai portato come portato il pigiama ma che hai detto ma che mi dai del tu brugnoli tu non mi devi dare del tu hai capito che t'ho portato ma che sono tua madre ma che c'è scritto da qualche parte che io devo portare qualcosa no mi sembra che qui è tutto quello che ti serve no